Tutte le paure in generale rovinano la nostra vita perché spesso sono infondate, cioè sono fondate su parametri e sono paure che stanno all'interno della nostra mente. Quindi dobbiamo assolutamente liberarci, il primo passo è quello di rendersi conto che sono delle sofferenze mentali, delle cose che ci creiamo noi per soddisfare esigenze emotive che in altro modo non siamo in grado di soddisfare e quindi la nostra sfera emotiva va ad agganciarsi, va a rigenerare le sue esigenze attraverso queste paure. Queste paure sono, quelle che ci rovinano maggiormente la vita, sono la paura dell'abbandono affettivo, cioè la paura di perdere, chiamiamo, perderlo perché questa persona possa lasciarci, possa abbandonarci oppure possa avere anche una disgrazia che lo allontani in qualche modo da noi. E quindi in attesa di vivere l'abbandono questa sanzione ci rovina la vita perché ci dà sempre quella sensazione di instabilità e di precarietà. Un'altra paura è il timore di sentirsi inadeguati, sentirsi inadeguati nel proprio ruolo e possiamo sentirci inadeguati in tutto, nel nostro ruolo di genitori, di lavoratori, di amanti, in tutto ciò che caratterizza quella che è la nostra vita e ci possiamo sentire completamente inadeguati e questo può rovinare quello che è il nostro modo di rapportarci con noi stessi e con gli altri. Un'altra paura la cui sanzione ci ferisce moltissimo è il timore di essere rifiutati. Il timore di essere rifiutati è quella paura per cui l'altra persona per qualche motivo ci giudica inadeguati e pertanto ci rifiuta. Per evitare di essere rifiutati siamo disposti ad accettare anche delle situazioni che normalmente non accetteremmo, in alcuni casi a scendere, ad abbassare il livello della nostra autostima e della nostra dignità. Quindi queste tre paure dobbiamo imparare a comprenderle, a capire che non fanno parte della nostra vita attuale ma sono un retaggio di situazioni passate, non è mai troppo tardi per avere un passato felice e se riusciamo a capire questo iniziamo già a demolirne le fondamenta. Una volta che le fondamenta sono demolite dobbiamo mettere in atto dei comportamenti in modo tale da acquisire la sicurezza in noi. Il coraggio non è l'assenza di paura ma la capacità di gestire le proprie paure e fondamentalmente queste tre paure. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!